Forza che siamo solo all'inizio. Avanti! Shhh! Senti? Prego, sedetevi. Ma con chi sta? Oddio le sedi si sono spostate da sole! Perdonatelo, ehm... Oddio, ma voi siete i genitori di quella invisibile! Ormai, ehm, ti presento i signori a cagure. Piace... Vabbè, come se fosse successo. Scusate, ma proprio non mi avevo visti. Madonna, che perdona.